Avete voglia di un contorno semplice ma profumato e colorato perfetto per le giornate estive? E allora preparate con me queste melanzane a funghetto, sono davvero strepitose, guardate che meraviglia! Partiamo proprio dalle melanzane nere che dopo aver lavato dovremo privare del peduncolo e ridurre dapprima in fette e poi in cubetti, in questo modo. Disponiamo all'interno di un colapasta, cospargiamo con del sale, mescoliamo le melanzane così da cospargerle per bene e facciamo riposare per 20 minuti. Dopo aver sciacquato e tamponato facciamo friggere in olio di semi caldo, rigirando così da farle dorare in maniera omogenea. A quel punto le scoliamo e passiamo su un foglio di carta assorbente. Non ci resta quindi che aggiustare con del sale. All'interno di una padella facciamo dorare due spicchi d'aglio con dell'olio extravergine d'oliva e versiamo i pomodorini precedentemente lavati e ridotti a metà. Aggiustiamo con del sale e facciamo andare a fiamma media coprendo con un coperchio. Quando i pomodorini saranno pronti non ci resta che togliere i due spicchi d'aglio e possiamo quindi aggiungere le melanzane fritte. Mescoliamo ancora con un cucchiaio così da fondere questi due ingredienti e già il profumino è davvero incredibile. Ma se aggiungiamo anche delle foglie di basilico diventerà un contorno davvero eccezionale. Guardate un po' che meraviglia. Servito sul del pane è davvero da provare. Guardate un po' che meraviglia.